Cosa è al volo? Il cambiamento dalle politiche di un certo tipo alle politiche ambientaliste non può essere fatto dall'oggi al domani. In tutti i fenomeni storici ci vanno decenni di tempo, noi ne abbiamo persi almeno tre. Se andiamo a vedere in Austria cittadine come Gussing, sono 30 anni che funzionano con le rinnovabili. Secondo, questo video che abbiamo visto è una domanda, domanda fatta alla politica, non solo alla sinistra, non solo al PD certamente. Allora bisogna vedere che cosa è la politica, se è l'arte di leggere questa realtà e inventarsi un futuro che non c'è, oppure, come diceva lei, l'arte di inventarsi la realtà per garantirsi un futuro a breve termine, ma non certo a lungo.